Cambiamo modello di business, cambiamo tutto. Adesso Carlo Bertolatti, General Manager di Yves Rocher Italia. Grazie a tutti. Allora, Yves Rocher, un marchio noto in Italia e guardavamo i bilanci degli ultimi dieci anni, avete portato avanti dei risultati di crescita continua e oggi siete a quanto è fatturato? Poi dipende come si guarda, ma noi guardandolo sell out senza IVA è 190 milioni, e sono, come dici tu, dieci anni di crescita doppia cifra, siamo dal 38 milioni nel 2010 a 190 nel 2020, quindi siamo anche più veloci di quello che ci aspettavamo. È una grande storia di successo per diversi fattori, sono tante tappe, credo io, in questa crescita, fatta con priorità molto precise. Prima il gruppo aveva rinnovato tutta la marca a livello mondiale, che serviva molto, era una marca comunque con un'immagine un po' più vecchia. Poi in Italia siamo riusciti a fare veramente una marca unica. Prima avevamo due canali e la marca si vedeva un po' strana e diversa nei due. Prima è stato un grande lavoro di marca e poi una focalizzazione sui due canali. E dal 2015 è stato veramente il boom. Due canali che sono, per raccontare il che libro c'è, a un modello di business di... Infatti se iniziamo a entrare in quello possiamo parlare per ore. Noi abbiamo retail, quindi 112 punti vendita, che rappresenta però solo il 20% del fatturato. Questi circa 200 milioni, diciamo. Sì. E poi abbiamo il social selling, che è la vendita diretta, diciamo, modernizzata. Se vuoi spiegare cos'è il social selling, perché secondo me è interessante, sembra semplice ma non è così... No, è un po' complesso in poco tempo, ma diciamo la vendita diretta, chiamata in America direct selling, era la vendita diretta tra una persona e l'altra. Il social selling è l'evoluzione, arrivato sempre dai mercati americani, con l'arrivo dei social la gente promuove i prodotti attraverso anche i social. Quindi è usare i canali social e diventano le venditrici o i manager delle micro-influencer che propongono i prodotti, anche l'opportunità di carriera se uno vuole. E c'è stato veramente... Il mercato è molto stabile in Italia dalla vendita diretta e noi siamo esplosi. Esatto, infatti so che la vendita diretta è un canale molto consistente ma non ha delle crescite... Noi... Perché siete esplosi? Secondo te qual è la chiave? La chiave, penso, uno è stato di modernizzarci e abbiamo trovato una storia di successo che è venuta veramente dalla nostra rete, no? Persone che iniziavano da soli senza una strategia aziendale e presa la palla al balzo abbiamo intervistato queste persone e l'abbiamo... Queste venditrici... Sì, venditrici o manager internalizzato, brandizzato bene e poi demultiplicato. E questo dal 2016, anno dopo anno, è veramente esploso. Quante sono oggi le vostre figure commerciali? Non so come le chiamate. Quindi sì, possono essere dai clienti fino a venditrici e sono 200.000 in tutta Italia. Poi arrivando... E ci sono dei manager sopra di loro, sono 430 zone manager e tra di loro 6.000 capogruppo. E quindi una persona mediamente... Quindi una persona in genere, la vostra venditrice tipo, è qualcuno che ha un altro lavoro o che fa questo di mestiere? Dipende da dove... in che posizione si trova. Quindi ci sono delle persone che lo fanno proprio per avere i prodotti solo con uno sconto personale. Dalla persona che vende i familiari magari i suoi prodotti ce li ha gratis, dalla persona che lo può fare come primo lavoro, come venditrice. Alla manager che sono... le nostre manager sono tutte... è l'unico lavoro che hanno. Non posso parlare di stipendi, ma alcune che guadagnano più di me. Per darvi un'idea. E voi supportate queste vendite anche con una strategia di comunicazione? Quanto investe i Vrochet o è tutto autogenerato? No, a quello penso è anche il grande passo, perché noi avendo retail crediamo nei due canali e crediamo in due esperienze diverse perché vediamo che sono consumatori diversi. Anche durante la pandemia, che i negozi erano chiusi, non c'è stato tanti del nostro parco clienti che sono passati da un canale all'altro. E quindi noi... E quindi chi veniva in negozio non l'ha più comprato durante la pandemia? Cioè se il negozio era chiuso... Sì, abbiamo avuto grandi problemi, sì. Come tutti, penso, per i due mesi di lockdown. E la visibilità noi abbiamo... avendo lavorato la marca, prima di essere visibili in un modo unico in tutti i canali, poi si investiamo in visibilità ed è una cosa che raddoppiamo quasi ogni anno. Con le cresce abbiamo raddoppiato ogni anno, quindi è una cosa che ci crediamo moltissimo e siamo arrivati in awareness sopra gli 80% che non avevamo... eravamo veramente lontani. Ma investite in visibilità online o anche tradizionale? Anche tradizionale, anche TV, radio, abbiamo fatto quest'anno anche radio, sì. L'ottobre l'anno scorso in TV, anche con la testimonianza con Federica Pellegrini, quindi veramente a 360 gradi. E tu dicevi prima che avete due canali, il diretto e la social selling. La rete retail è come... Il retail è... avete progetti di ampliamento o è sempre un canale complementare? Diciamo che fa parte della success story, è stato... Prima ho reso redditizio il parco nel 2015 e poi dal 2016 abbiamo aperto 10 negozi all'anno, eravamo solo 60, arrivando a 112. Con la pandemia, penso come tutti i retailer, poi sono monomarca, quindi uno parlava prima dei costi affitti, personale, eccetera. Per adesso stiamo stabilizzando, quindi abbiamo chiuso solo un negozio e non abbiamo il programma di chiuderne altri. Abbiamo lavorato molto sulla resilienza, la marginalità, su nuovi modi di vendere. Parlando di tecnologia, prima il collega di L'Oreal abbiamo un dispositivo di skin care, skin di ag, che facciamo in negozio e questo primo trimestre fa 15% del fattorato viene da persone che lo fanno. Quindi per adesso è rinforzare l'esperienza del canale che abbiamo. Però siamo aperti, poi nei prossimi anni anche aprire nuovi... Quindi diciamo adesso dovete aumentare la profettabilità di quelli che avete... Diciamo che siamo riusciti a ritornare non ancora alle vendite, ma alla profettabilità del 2019, che era il primo passo. E adesso sì, è di ritrovarla a top line, sperando anche in un traffico che torna, in potenziamento del CRM, per poi sì, andare a aprire, perché ci sono dei centri commerciali top che non siamo ancora presenti. Quindi avete ancora opportunità. Mentre l'e-commerce, per voi, che canale è? Un'altra domanda, potrei parlare per... Noi crediamo nel social selling di dare un'esperienza a e-commerce, e non ci siamo ancora al 100%, quindi che per il cliente finale è come se fosse un'esperienza a e-commerce, ma dietro c'è la consulenza... In più c'è il plus della consulenza, se voluta, personalizzata. Quindi crediamo nella digitalizzazione dell'experience ancora di più, dobbiamo spingerci di più, ma non in un e-commerce puro, puro, puro. Quindi se io vado sul sito Yves Rocher, non trovo il modo di acquistare... Oggi no, ma... Tra poco ti dirò. Quindi sarà un terzo canale, diciamo così. E voi oggi, all'interno della marca Yves Rocher, l'Italia, con questi 200 milioni di fatturato, è un caso di successo? Che classifica avete? Che mercato siete? Siamo diventati il secondo mercato dopo la Francia, per la marca Yves Rocher, e a livello di totale gruppo, che ha nove marche, fa 2 miliardi e 4 di fatturato, siamo la terza, c'è solo Stati Uniti, Arbor, una marca, un'altra marca, ma siamo il terzo del gruppo e il secondo della marca. Quindi siete visti bene all'interno del... Sì, abbiamo avuto tante visite negli ultimi dieci anni, in questo sicuro. Quindi, voi oggi pensate che ci sia ancora spazio di crescita, anche in termini di ampliamento di prodotti, o è già a posto, secondo te? Crescita per me c'è sempre. Poi è difficile, al giorno d'oggi, dire cos'è il nostro potenziale, perché forse il 2020 è stato veramente un anno boom, abbiamo fatto 30 milioni di crescita in social selling, perché tante persone erano a casa a guardare i social. Quindi forse anche di più di quello che eravamo pronti a crescere. Quindi io penso che possiamo ancora crescere, non saprei dire il numero, però dobbiamo anche ristrutturarci, modernizzarci a livello di processi, un ERP, digitalmente, però c'è ancora spazio di crescere. Capito. È interessante, devo dire, pensare che in questo modello di business ci sia un'azienda che possa fare quasi 200 milioni di euro di fatturato, visto che si parla sempre canali, farmacia, profumeria. Come ne parlavamo ieri sera a cena, tutti erano un po', quando ho detto 150 milioni, perché tutti si aspettano più vendita dal retail che dal social selling, mentre è il contrario. Quindi è un modello vecchio, tra virgolette, che con il digital ha acquisito una nuova vita, la vendita diretta. Sì, e credo, parlando prima del metaverso, io penso che nel futuro può andare ancora... È un canale che considero vecchio, ma è sempre moderno. Io sono convinto di questo, e penso che il futuro crescerà ancora di più. Ci sono aziende nel mercato che vedendo i risultati brillanti che parla di avanti stanno pensando di entrare in questo canale, o è un canale che o ci nasci o è difficile acquisire quella cultura? Tanto ci hanno accoppiato in Italia nel modo dei social, ma è normale, seguendoci, e per adesso è anche più difficile crescere quando tutti sono presenti. Ci sono anche l'Occitane, anche Malcolm L'Occitane stava provando in Nord America, non so come vanno, ci sono diverse marche che ci stanno provando. Il più facile, secondo me, è attraverso acquisizioni per i gruppi, perché comunque creare una rete vendita da zero non è così facile, perché parti veramente indietro, no? Sì, sì. È questo. Chiarissimo. Interessante. Grazie mille della tua testimonianza e complimenti di questi risultati. Grazie a te. Ciao.